Signore, signori, buonasera a tutti. E' il grattacinato è la più importante di un'impresa che è rispetto a tutti. Ed ecco il mio posto, il posto del film stravito da lui. Per il mio posto, in Italia e da di Mischofi e il mio posto in Italia e da di Mischofi. Il mio posto è il Reggio dell'Eropa che è la Reggio dell'Europa. Il mio posto è il Reggio dell'Oroba, un'annuale bianca. Grazie